Si voterà il 10 dicembre in Libia. Si chiude con un'intesa non firmata ma approvata informalmente la conferenza internazionale convocata a Parigi dal presidente francese Emmanuel Macron. Un accordo tra le parti sulle elezioni politiche e presidenziali in quello che è il paese più caldo del Mediterraneo e del Nord Africa. Otto punti dedicati al calendario e alle regole del voto ma anche alle condizioni per avviare il necessario dialogo per riunificare istituzioni e forze armate in un paese che non ha una legge elettorale ed una costituzione da tutti riconosciuta ed accettata. Sul documento avrebbero raggiunto un accordo il presidente del consiglio presidenziale libico Fayez Serrai e il generale Khalifa Haftar insieme al presidente dell'alto consiglio di stato Khaled al-Mishri e al presidente del Parlamento con sede a Tobruk Agila Saleh. Una conferenza boicottata invece da milizie e gruppi politici di importanti città della Tripolitania che hanno accusato la Francia di favorire il generale Haftar che fu tra i primi e più fedeli collaboratori di Muammar Gheddafi. Il presidente francese che ha inviato i propri emissari a Tripoli e Benghazi per invitare i principali leader libici all'Eliseo incassa però un importante successo diplomatico. Macron che riporta la Francia in posizione strategica sulle vicende libiche ha ringraziato l'Italia per l'impegno esemplare tenuto in Libia ma l'Italia per la gravissima crisi politica distituzionale che sta attraversando è stata la grande assente alla conferenza parigina.